e la salve a tutti amici e benvenuti in questo nuovo tutorial il tutorial di oggi nasce dalle molte richieste che mi sono state fatte nel tempo su come inserire una foto in facebook o nel proprio sito quindi nei vari social senza che essa venga compressa quindi con le varie forme di pixelature ho deciso di fare anche questo tutorial in forma molto dettagliata perché ho visto che ci sono tanti tutorial che spiegano questo ma magari molti spiegano solo che che tipo di formato salvare la foto o in che dimensione in pixel inserire una foto è giusto ed è anche sbagliato è per questo che ho deciso di realizzare questo tutorial per spiegarvi esattamente come tramite vari passaggi inserire una foto in facebook e far sì che la foto sia uguale all'originale quindi andremo a vedere questi passaggi allora bisogna dire innanzitutto che è una foto comunque ridimensionata è comunque una foto compressa ma tramite vari passaggi che vi farò vedere adesso riusciremo a portarla a una qualità come originale bene ovviamente come prima cosa cosa dovremmo fare dovremmo aprire la nostra foto una volta aperta la nostra foto dove dovremmo andare dovremmo andare su filtro e nitidezza dopo cliccheremo su maschera di contrasto perché viene fatto questo perché ovviamente come vi dicevo precedentemente un'immagine che andremo a ridimensionare poi risulterà più schiarita quindi più appannata e tramite invece questo contrasto che gli andremo applicare l'immagine risulterà più nitida allora bisogna dire due cose la prima cosa che questa è una foto fatta con la reflex quindi possiamo usare una percentuale diversa del doppio rispetto magari a delle foto scattate con il cellulare quindi con una reflex potremmo cambiare il fattore da 0 a 100 è un raggio da 0 a 1 la soglia mi raccomando deve rimanere sempre a 1 se avete scattato una foto invece con il cellulare il fattore sarà un massimo di 50 e un raggio massimo di 0,5 poi sarete voi a cambiarlo in base a come vi verrà la foto io questa volta uso un fattore di 70 e un raggio da 0 a 8 questo perché questa foto è stata scattata con la reflex comunque in anteprima vedrete anche il risultato bene una volta fatto clicchiamo su ok e photoshop ci avrà applicato la nostra maschera di contrasto ora cosa andremo a fare come secondo passaggio andremo a ridimensionare la nostra immagine come vi dicevo precedentemente non ho scelto a caso questa foto perché dopo visto che questa foto comunque ha vari passaggi di sfumature del cielo vi farò vedere che comunque la foto non è stata così distrutta quindi andremo su immagine dimensione immagine e mi raccomando cosa molto importante che ci sia come potete vedere questa legatura tra larghezza e altezza ma deve essere così allora la prima cosa che andremo a fare cosa sarà cambiare la risoluzione qui sfateremo un altro mito del 72 pixel perché dicono che praticamente in internet si possono la risoluzione massima è 72 sbagliato perché questo succedeva una volta si usava la risoluzione 72 pixel perché la maggior parte dei computer aveva un formato da 15 pollici quindi una visione da 15 pollici del desktop o del computer ma ormai come sappiamo la tecnologia va avanti e quindi abbiamo anche degli schermi più grandi che possono arrivare fino a una risoluzione di 92 96 megapixel quindi cosa andremo a cambiare andremo a metterci il maggiore formato così che anche tutti coloro che hanno magari uno schermo più grande dei 15 pollici possono vedere comunque l'immagine nitida esattamente come l'originale quindi andremo a cerire un 92 questo da fare per primo perché altrimenti se andremo a cambiare subito la larghezza e l'altezza la risoluzione cambierà in automatico perché mi raccomando la spunta ricampiona deve essere selezionata questo perché perché ci basterà solo cambiare un fattore tipo la larghezza in questo caso visto che l'immagine è orizzontale e di conseguenza photoshop in automatico ci calcolerà l'altezza questo per far sì che l'immagine non venga troppo larga o troppo alta allora bisogna dire un'altra cosa su facebook ci può usare un 1280 e come vedete in automatico mi ha selezionato l'altezza di 853 questo dipenderà da molto anche dalla reflex da che formato farà la foto originale per il sito invece il sito come sapete ha bisogno di una carica più veloce per essere visualizzata e quindi il massimo di solito sugli 800 pixel può essere anche 600 dipende anche se avete un sito wordpress che carica foto solo magari orizzontali o solo foto quadrate e quindi andrete a inserire il valore per l'immagine a cui vi serve in questo caso facebook nell'altro caso invece per il sito bene una volta fatto questo andremo a cliccare su ok come vedete photoshop vi ha ridimensionato l'immagine per far sì che l'immagine venga visualizzata in un formato giusto per la visualizzazione tramite computer online e questo è molto importante perché andremo a salvare proprio per immagini web quindi un secondo passaggio cosa sarà una volta che noi andremo a ridimensionare l'immagine cosa andremo a fare andremo su file salva per web e vi ritroverete questa finestrella qui che si apre allora photoshop in automatico come predefinito usa un gif ma noi andremo a cambiarlo in png 24 mi raccomando non png 8 png 24 questo perché perché facebook non riconosce questo formato quindi non andrà a comprimere il formato di png 24 quindi cosa molto importante a differenza degli altri formati come il jpeg o il png normale mi raccomando che sia spuntato converti in srgb e per tutto il resto potrete vedere se comunque qui ci sarà la misura che vi ho dato precedentemente per essere sicuri e che la percentuale sia al cento per cento e che la qualità sia bicubica bene una volta fatto eseguito cliccherete su salva e andrete a salvare quel nome foto per facebook e cliccherete su salva e photoshop salverà la foto sulla cartella in cui l'avete impostata e la foto sarà pronta per essere inserita in facebook o sul proprio sito come potete vedere adesso non so se avrete impostato la funzione hd su youtube ma qui di solito con le classiche foto quando andrete a metterle su facebook verranno delle pixelature questo perché ci saranno i cambi di colore come potete vedere invece in questa immagine che già stata di per sé compresse ma riversa verso l'originale potrete vedere che non ci sono assolutamente oggetti di pixelature o contrasti tipo aberrazioni sulla nostra foto bene questo è tutto spero di aver chiarito nel modo migliore possibile tutto quello che riguarda le foto per il web e niente questo è tutto mi raccomando continuate a seguirmi seguitemi anche sulla mia pagina facebook dove metto anche le mie foto dei vari scatti che eseguo e io vi do un saluto ci vediamo al prossimo tutorial o speed art che sia e vi auguro una buona giornata ciao ciao